Il mondo degli appassionati della montagna si dà appuntamento al Lido di Gavirate, dove ieri, sabato 12 marzo, ci sono state le manifestazioni per i bambini e gli eventi correlati al campo dei Fiori Trail. E oggi, domenica 13 marzo, spazio alle gare sulle distanze di 11, 28, 38, 50 e 75 chilometri. Più di 1500 concorrenti a sfidarsi sulle prealpi varesine su un percorso che porta dal lago fino ai punti più amati e più caratteristici della nostra provincia. Il Sacromonte, il Campo dei Fiori, il Forte di Orino e, per chi sceglieva i percorsi più lunghi, lo sconfinamento in Valganna e il passaggio in altri luoghi molto conosciuti come la Rasa e il Brinzio. Alla fine, a imporsi, tra i superman della 75 chilometri, è Andrea Macchi, la lince di Gavirate, come viene soprannominato, che vola al traguardo con la bellezza di 47 minuti di vantaggio sul secondo classificato Roberto Alberio. Ci mette 8 ore e 41 minuti per completare il percorso. Tra le donne vince la veneta Alessandra Olivi su Valentina Micheli di Cortina.